ciao a tutti benvenuti all'appuntamento con tale degli scacchi partite dello speed championship 2023 magnus carson vince di misura contro ikaro nakamura partite spettacolari ikaro nakamura giocherà la partita del millennio a cadenza 3 più 1 ma non basterà per vincere per la sesta volta consecutiva questo torneo bene prima iniziare mi raccomando like e descrizione siamo qui in compagnia la protina nakamura coi pezzi neri magnus carson coi pezzi bianchi carson a per uno d4 cavolo f6 difesa indiana c4 duo pedonale affiancato e6 cavolo f3 b6 difesa ovest indiana che sta tornando in auges sta tornando in auges signora g3 impianto con il fianchetto vescovo in b7 vescovo in c3 scacco questa è una variante tipica per addescare il vescovo e poi tornare indietro ok in e7 carriacchini è specialista di questa linea però nakamura non torna in e7 cambia cambia in d2 presa di donna di carson a rocco corto cavallo c3 carson termina lo sviluppo cavallo in e4 questa ricorda molto anche una variante che giocava wolf anderson l'idea è quella di per pressione al cavallo attaccando la donna e in un secondo momento di giocare f5 per reggere questo cavallo un impianto molto solido donna di 3 ma nakamura non gioca f5 prende il cavallo presa e qui carson intermezzo clamoroso minaccia matti minaccia matti in h7 ora nakamura torna indietro col cavallo tanto il pezzo l'aveva già appena preso carson lo recupera cavallo in c6 una linea dove il bianco sta sempre leggermente meglio a rocco corto f5 arriva adesso scaccia il cavallo e adesso carson dovrà tornare in c3 e qui nakamura si inventa f4 non ci sono più partite nel database novità nella 3 più una mossa del genere rischia di far saltare tutto il banco car se non fa una piega sposta la donna perché perché la donna è esposta cavallo b4 e poi il cambio di vescovo e poi magari ha la spinta in f3 non stare attenti donna f6 nakamura vuole attaccare a tutti i costi la colonna f approfittando del fatto che prima o poi questo cavallo andrà via il vescovo giocherà e intanto attacca il pedone debole in d4 qui carson deve fare una scelta la scelta è quella di difendere il pedone mossa un pochino passiva ma ancora giocabile nakamura toglie il cavallo apre le cateratte per cambiare il vescovo di fianchetto se il vescovo di fianchetto del bianco rimane sparse dalla scacchiera e il punto è che le case chiare possono tracollare carson sberlucca presa di nakamura e qui c'è una mossa che tutti i commentatori hanno criticato è ancora giocabile però il problema è sempre l'arrivo di f3 con idee tracotanti di dare matto in g2 e la gioca nakamura la è la gioca carson gioca e4 cosa vuole fare carson? carson ha un centro di pedoni molto interessante trio pedonale affiancato taglia le case al cavallo si prepara a giocare magari mosse come e5 cavallo e4 il problema sono le case chiare intorno all'arrocco vediamo nakamura nakamura cosa fa gioca già subito sulle case chiare minaccia donna g4 donna h3 matto vedete sono partite che nelle blitz spesso uno va avanti con il proprio piano e il rischio è quello di prendere matto carson deve difendersi h4 questa non fa altro che indebolire ancora le case chiare ancora di più ok però carson è abituato a difendere posizioni inferiori in maniera disumana nakamura centralizza il cavallo chiaramente questo cavallo è molto forte preme sui due pedoni centrali e qui carson dovrà sforzarsi per difendere tutto no? e qui fa un blunders che obiettivamente questo avrei giocato anche io perché difende entrambi i pedoni però qui nakamura trova una mossa bestiale la mossa del millennio signore perché questa torre f4 è di una tracotanza indiscutibile torre f4 qui possiamo già chiudere baracca e burattini minaccia il pedone in h4 minaccia il pedone in h4 la torre non si può prendere perché è inchiodato e qui vediamo carson prova a farsi una via di fuga per il re ma la via di fuga per il re non esiste in realtà ok ora nakamura che cosa gioca? raddoppi i troni pernigotti la migliore del motore attenzione adesso carson vuole difendere il traversino provare ad attaccare questo pedone in tutti i modi possibili però qui arriva un'altra mossa del secolo, del millennio mosse devastevoli qui questa è veramente devastabile cavallo per c4 per deviare la donna uno può dire, ma devia la donna e poi come continua l'attacco beh, la minaccia di torre per h4 comincia ad essere importante e poi ci sono temi assurdi di sacrificio e spinta del pedone ma andiamo con calma sberlucca carson sberlucca il cavallo torre per h4 e adesso qui che si fa? carson vuole continuare a difendere il traversino matto in sei perché la torre difendeva la casa di promozione del pedone e se ne è andata in d3 sono partite ovviamente a 3 più 1 ci sta a fare dei blunders ok, qui carson aveva 18 secondi nakamura 28 nakamura vede una mossa terrificante sacrificio di donna donna per g3 nakamura meritava di vincere di nuovo lo speed championship perché ha giocato meglio ha giocato meglio il problema qual è? è che nakamura ha sprecato parecchie posizioni d'attacco soprattutto la partita che andremo a vedere dopo qui carson ha abbandonato in maniera pietosa ha abbandonato bene protino andiamo a vedere l'ultima partita quella che ha deciso praticamente il match carson alla fine riesce a ribaltare un po' la situazione sotto 4 e mezzo a mezzo nelle 3 più 1 riesce a vincere 3 partite di fila pareggiare il match andare alle bullet dove nakamura è ciclopico devastivo cosa è successo nell'ultima partita torniamo un attimo indietro allora quel cavolo ecco ok carson nakamura perché carson è riuscito veramente a uscire da una posizione scomoda infernale eccola qui la partita incredibile una partita piena di errori questa è una bullet a 1 più 1 nell'altra partita nakamura ha fatto 98 per cento di precisione zero errori zero imprecisioni zero zero ok qui nakamura è sotto di un punto manca pochissimo tempo alla fine del torneo praticamente era l'ultima partita doveva vincere per andare a dispareggio Armageddon carson quei pezzi bianchi giochi 4 e 5 nakamura ha giocato alla ruy lopez in tutte le salse e qui carson giocare a 4 cavalli perché carson vuole pattare quindi apertura pattaiola g6 è una linea considerata inferiore però vi posso garantire che nelle bullet si può giocare qualsiasi cosa carson apre il 100 presa presa vescovo g7 vescovo in e3 cavallo bd7 mosso di sviluppo carson si prepara ad arroccare lungo d6 per far uscire il vescovo però che il carson ha già un vantaggio il vantaggio di carson è dato da a parte lo spazio lo sviluppo la camura ancora al re al centro carson ha una forte batteria di sfianchettamento i cavalli molto attivi e potrebbe anche arrivare sia vescovo c4 sia una tempesta pedonale sulla diretta cioè qui carson è in carrozza tutti pensavano che quel carson non avrebbe avuto problemi h6 prova a creare del filo spinato una camura vescovo e2 questa è una mossa timida però è ancora buona la mia vescovo c4 in realtà è sempre buona però forse una camura forse carson aveva paura di cavallo a5 e di perdere il forte vescovo però vediamo vescovo e2 è più conservativo è tipico di carson non dare punti di riferimento vescovo in e6 vescovo in e6 mossa di sviluppo qui carson potrebbe già togliere la coppia dei vescovi e annullare totalmente ogni velletta ma carson non lo fa gioca mossa ridicola torna il pernigotti si ha raggi su re però obiettivamente questa è di un passivo intredibile Nakamura ne approfitta per fare anche lui una batteria a roccare lungo carson cambia un pezzo il problema è che carson non ha tolto la coppia dei vescovi coppia di vescovi di nakamura che da qui gioca in maniera divina anche se il motore dà ancora leggero vantaggio al bianco e qui carson vuole tappare il vescovo a6 perchè nakamura ovviamente non voleva inchiodatore ok perchè se cambiava anche vescovo sul cavallo si semplificava troppo la posizione f4 carson parte all'arrembaggio arrocco lungo vescovo f3 la migliore re in b8 tipica mossa dei gm re b1 mossa la gm la mossa degli arrocchi lunghi quando si arrocca lungo generalmente i top gm mettono subito un re in b1 re b8 quando arrocchono corto in h1 e in h8 sono mosse profilattiche vescovo in f2 anche questa è una mossa che non dà molti punti di riferimento potrebbe minacciare di spingere in e5 non credo però sono mosse queste che possono dare da pensare anche forse il vescovo h4 vediamo nakamura togliere la torre perchè ha proprio paura di vescovo h4 vediamo arriva vescovo h4 lo stesso perchè la gioca? perchè gioca vescovo h4? ormai non ha più uno scopo continua a centralizzare i pezzi potrebbe provare una batteria con la donna in testa ad esempio contro la rocco però karsen gioca un colpo al cerchio e un colpo alla botta cavallo di 4 nakamura entra e quindi karsen sberlucca sberlucco sberlucca apparentemente sembra una posizione dove karsen ha la coppia di vescovi ma sta subendo un attacco devastante cambia via il cavallo presa presa quindi ha ridato via il cavallo per togliere la coppia di vescovi a karsen che puntava sull'arracco ok ora che succede? sberluccampedone sacrificio tematico ma con 51 secondi cioè una bullet insomma vuole provare a dare dello scompidio perchè poi l'idea ovviamente si prende il vescovo donna e6 scacco e parte l'altro vescovo con partita da giocare karsen non vuole si chiude nel bunker non voglio rischiare però nakamura torna a casa adesso H4 all'alfa zero tanto per una paura che queste mosse vanno fatte il pedone era attaccato ovviamente nakamura vuole buttare tutti i pezzi addosso a karsen deve vincere per forza nakamura deve vincere per forza e qui karsen propone il cambio delle donne il motore dice che cambiare le donne da un leggero vantaggio al nero ma se voi giocate questa mossa contro karsen karsen quel più uno per il nero te lo ribalta perchè lui è un maestro nel giocare le strutture semplificate senza le donne nakamura tiene le donne karsen continua a proporre il cambio nakamura non le cambia karsen provava a creare una barriera contro il vescovo delle case chiare nakamura sposta il re anche karsen centralizza un po' il re e qui nakamura non sa cosa fare deve giocare a mosse veloci per guadagnare un po' di tempo c'è un secondo di a buono ricordiamoci karsen regala un pedone per un po' di contro gioco attacca la donna pensa di recuperare il pedone ma nakamura torna in vicino karsen prende il pedone ma l'attacco praticamente cosa è successo karsen ha tolto un torno per i gotti dal traversino e quindi questo traversino sarà vedrete che succederà perché sarà veramente l'inizio di un giro di tatticume che punirà karsen ma che alla fine nakamura decide di non andare a colpire a5 karsen prova a giocare dall'altra parte nakamura qui cosa sta facendo nakamura vuole giocare il re in b7 visto che non prende scacchi sulle case chiare portare il torno per i gotti sull'a spingere a4 aprire il lucio e dare matto karsen attacca la donna c5 si aggiungono pedoni su pedoni adesso c'è una bella barriera di nakamura karsen torna indietro ma non c'è niente da fare l'attacco arriva l'attacco arriva karsen prova a contro giocare dar dei problemi perché con pochi secondi nakamura dovrà valutare la presa di 6 ma credo che ormai nakamura andrà kamikaze sui pedoni e sulla rock presa apre il guscio presa re b7 adesso passerà l'altra torna qui a partire da abbandono karsen il pedone e lo sberlucca non ha paura però qui c'è da aver paura e come spinge prova a spaccare tutto karsen crea confusione nakamura gioca a donna f1 che non è la migliore donna a6 sarebbe stata molto più tracotante probabilmente che poi entrano tutti i pezzi dunque anche donna f1 stessa idea ecco quindi sta per iniziare il dramma di nakamura cioè ha giocato donna f1 per dare lo scacco di donna ovviamente no? karsen sberlucca proprio sacrificio di pezzi di nakamura e qui la purcheria delle purcherie nakamura da aver giocato la partita del millennio gioca il blunders del millennio quando io dico che karsen è fortunato non voglio dire che karsen è scarso karsen è il più forte giocatore degli ultimi vent'anni probabilmente io ci metterei casparov, fischer, karpov ok proprio i tops dei tops karsen è di un'altra era con il motore tutto quanto ha un cervello predisposto a questo gioco non molla mai è rognoso ok gioca bene in difesa come fanno i motori ma qui che succede? perchè nakamura gioca torre au ma perchè? nakamura ignora tutti i contro giochi di karsen addirittura anche torre di 7 scacco in queste posizioni qui hai il pezzo in meno devi vincere a quel punto lì devi sempre provare a dare scacco e creare una rete di matto forzando nakamura non ha forzato nakamura pensava di arrivare in tempo con questa e con questa due tempi ma non ce la fa perchè adesso il re è scoperto doveva dare lo scacco con la donna scacco di donna che fa qui karsen? re c2 signori re c2 torre in a2 scacco e qui karsen deve dar via la donna perchè se prova a scappare donna di uno scacco e voi possiamo anche salutare tutti torre a2 scacco karsen forse nakamura ha visto questa linea l'ha visto in quei pochi secondi e l'aveva visto una reanguilla di karsen problema che qua parte il trone per miglotti con scacco ok e qui la chiude anche se non da matto ha materiale per vincere e quindi è una cosa inconcepibile non da scacco e karsen con 17 secondi 17 secondi sono pochi ma non pochissimi per un top gm ok preso dalla fretta gioca donna c2 inspiegabile non si è capito cosa ha voluto fare e qui nakamura compie il secondo mega blunder del millennio vero le pro attimo queste se voi mettete a un giocatore di categoria nazionale un candidato maestro un puzzle rush gioca e vinci il nero gioca e vinci e voi trovate torre a2 scacco re per a2 scacco di torrone per miglotti e qui dopo una mossa del genere arriva probabilmente quasi matto se non arriva matto perde la donna vediamola un attimo torre a2 scacco sberrucca torre a8 scacco re b2 e la prende proprio matto perchè la donna gli impedisce l'uscita del re ma come fai a non vedere una cosa del genere tra l'altro nakamura qui la cosa più assurda è che a 30 secondi nakamura è un re delle bullet nakamura avesse avuto davanti un giocatore un 2005 un 2006 non dico pepino meccanici degli altri grandi maestri l'avrebbe trovato e qui c'è sudditanza psicologica verso Carson si pensa che Carson riesca a trovare tutte le difese e invece Carson fa più blunders di quelli che uno possa immaginare nakamura nakamura blunders ok blunders e adesso nakamura che cosa fa? ha continuato con il piano ha visto il matto in una poi tra l'altro non è neanche matto in una non so che cosa abbia visto la cattura della donna ha voluto speculare ovviamente non si è accorto che torre d7 torre per b6 scoprono il re perché poi se salta il pedone b6 la donna entra con scacco è incredibile questa cosa qua con 30 secondi non con tre secondi io sono nakamura con cinque secondi tre secondi dare dei matti in quattro in cinque ma come fai? questo significa che Carson ti mette un'angoscia particolare è per quello che io dico che lui ha questa dote io la chiamo fortuna molti mi hanno criticato mi hanno detto addirittura mi tocca litigare sempre in chat prendermi dei ban di qua e di là solo perché dico che effettivamente Carson qui è fortunato perché qualsiasi giocatore ma qualsiasi disperato che deve vincere per forza anche solo a provare una combinazione il torre per nigotti lo butta lo butta ma poi questi gli hanno tutti i pattern di matto incredibile eppure nakamura non gioca così allora c'è da pensare una cosa Carson ha giocato anche lui bene è andato sotto come sempre poi rimonta ti dà delle chance perché Carson ti dà delle chance non è Bobby Fischer che non ti dava chance non è come Jekin che non ti dava chance non è come Kasparov che raramente ti dava chance Carson le chance te le dà ma le devi cogliere te ne dà una due a partita tu non le vedi nella prima e nella seconda volta perché c'è qualcosa anche a livello così karmico che porta Carson che è fortissimo è il più forte ma lo porta anche quando ha posizione persa a salvarsi ed è questo che io io critico a Carson questa cosa qui è per quello che non lo considero il più forte giocatore di tutti i tempi punto mio parere personale ok ma non accetto gli insulti vai a piangere vai qui vai là sei sempre a criticare Carson io sto facendo una critica costruttiva su dati di fatto Carson sto dicendo che è il migliore ma cosa devo dire che è il migliore che non sbaglierà mai che giocherà ancora così per vent'anni che vincerà ancora dieci campionati del mondo che è il più bello il più forte che non lo so cosa devo ancora dire sto dicendo che Carson è il più forte della nostra epoca ma quando potrebbe perdere degli eventi importanti come questo si salva sempre ok e questo è fastidioso questo è fastidioso quindi Nakamura si può anche accontentare di aver vinto 5 super speed chess come si chiama di fila tanto o lo vince lui o lo vince Carson non è che ci sia tanta scelta però diciamo beh se Nakamura vinceva andavano gli spareggi poteva ancora vincere Carson ovviamente però ho la sensazione che Carson crei dei problemi è bello che gli creava i problemi no? quindi Nakamura non poteva neanche dire non poteva neanche dire faccio una manovra così lenta perché questa è una manovra che ci mette tre mosse ad arrivare al re e il re di Nakamura non è sicurissimo al cento per cento ok Nakamura fa bene ad arrabbiarsi con se stesso perché ha giocato la partita del millennio ma poi avendo conta ha commesso i blunders del millennio bene smir con questo è tutto mi raccomando like e iscrizioni un saluto da Leprottino ciao ciao tutti sono Leprottino Nakamura è stato un pochino pollo che poteva vincere la partita tranquillamente è giocato bene ma con Carson non basta vincere bene con Carson bisogna cercare di vincere anche giocando male ok le casole te le da ok like e iscrizioni ciao ciao bene Leprottino con questo è tutto ciao e arrivederci